Siamo in compagnia del giovanissimo pilota di Formula 1, Carlos Sainz, della scuderia Toro Rosso, alla guida di nuova E-SPAS. Il piacere di guida e la sicurezza sono degli elementi molto importanti nella nuova E-SPAS. Abbiamo dei sensori a ultrasuono, abbiamo dei radar, abbiamo delle telecamere che prevengono le reazioni del conducente. Che sensazione si prova ad avere il massimo controllo su una ventura di 5 metri? Ci sono stati molto piccoli, ci sono stati molto piccoli, ci sono stati sicuri, ci sono stati sicuri, ci sono stati sicuri, ci sono stati sicuri a casa. Se avessi una famiglia, sarebbe davvero considerare uno di questi cari, perché la famiglia è quella che ti preoccupi di più e vuoi essere sicuri a possibile. Spacere, comfort e la sicurezza, queste sono le principali tre cose. La Formula 1 è una formula molto tecnologica, e questo caro è molto tecnologico, avere la scuola qui, con la scuola, con molti bottoni, con molti modi, con molti modi, con la sport, comfort, eco, neutral. La tecnologia è applicata in questo caro, e la tecnologia è applicata in Formula 1 di oggi. Come giudici chi è downsizing? La direzione che la Formula 1 ha fatto, è la direzione che, ovviamente, con l'evoluzione, Formula 1 ha fatto fatto. Non per farlo eco-friendly, come il mondo ha bisogno di oggi, come più veloce possibile, ma per produrare e consumire le meno combustible possibile. In questo caro stiamo cercando di ottenere lo stesso, ma prima bisogna sicurare che sono davvero buoni ingegneri in Formula 1. A 7-0, io vorrei farlo, perché come questo posso prendere i miei 6 amici a un circuito e mostrarle come la Formula 1 è fatto. C'è sempre un po' di Formula 1 in ogni Renault. A 7-0, io vorrei farlo, perché come questo può prendere i miei 6 amici a un circuito e i miei 6 amici a un circuito e i miei 6 amici a un circuito e i miei 6 amici a un circuito. Grazie. Grazie.